Un cordiale saluto a tutti voi, buongiorno, sono le 7.30 e questa è la rassegna stampa di Fano TV in diretta di oggi, venerdì 23 gennaio 2015. Cominciamo dal Santo del Giorno, oggi la Chiesa ricorda il matrimonio della Madonna con San Giuseppe. La festa fu istituita ufficialmente da Paolo III nel 1540 ma era stata ideata da Giovanni Gerson nel 1414. Lo sposalizio è diventato un tema molto caro ai pittori rinascimentali a cominciare da Raffaello Sanzio. Il sole è sorto alle 7.33 e tramonterà alle 17.06. Anche oggi è una giornata di pioggia, la temperatura è di 6,6 gradi, l'umidità del 93%, sono caduti già diversi millimetri di pioggia, continuerà a piovere, questa è l'immagine che ci mostra appunto la città di Fano sotto le nuvole. Vediamo il tempo per oggi, rovesci diffusi lungo la fascia costiera e nelle zone interne, in particolare sui settori meridionali della regione dove gli accumuli saranno moderati a fine giornata. Il limite delle nevicate inizialmente attorno ai 1200 metri sarà in discesa fino ai 900 metri in serata, le temperature sono in lieve diminuzione, i venti moderati nord orientali. Sabato 24 avremo invece un cielo parzialmente nuvoloso con maggiori schiarite nella seconda parte della giornata, quindi il pomeriggio residui fenomeni al mattino, in particolare sulle province meridionali della regione il limite delle nevicate sarà attorno ai 1000 metri, le temperature stazionarie in lieve diminuzione, i venti di brezza tesa da nord orientali. Il mare sarà molto mosso per la domenica, la giornata di domenica 25 gennaio parzialmente nuvoloso con maggiore addensamento nei settori meridionali della regione, deboli precipitazioni sparse nelle zone interne delle marche con limite delle nevicate attorno ai 700 metri. Temperature in ulteriore lieve diminuzione, i venti sono di brezza tesa nord orientali. L'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato ancora da tempo instabile, poi atteso un miglioramento per il resto della settimana. Cominciamo a leggere i giornali, il messaggero, la pagina di Fano, sicurezza, il prefetto assicura più uomini, non saranno dei rinforzi ma verranno dislocati in base a criteri sinergici. In commissariato si costituirà un tavolo tecnico che dovrà elaborare un piano complessivo di intervento. Paurosa carambola invece sulla strada cesanense, alle 12 circa, un'auto dacia guidata da un trentenne del posto impiegato, si è capovolta nel violento impatto con un recinto che costeggia la via cesanense. Nell'urto l'autista ha riportato ferite superficiali ma non è considerato in pericolo di vita. Sequestrò una pensionata per rapina, è stato condannato a 5 anni, il muratore rumeno che adesso chiede scusa, l'aveva legata, imbavagliata con lo scotch, derubata di tutti i suoi gioielli e di 5 mila euro, poi costretta a salire in auto e portata fino ad Anzio in Lazio dove il suo sequestratore l'ha abbandonata prima di darsi alla fuga con un bus diretto in Romania. Ore di terrore, quella vissuta da una 79enne fanese il 27 giugno del 2014, adesso è arrivata la condanna a 5 anni. L'altra pagina del messaggero saremo all'Expo per attrarre da noi le delegazioni dei 126 paesi. Camera di commercio a Milano dal 28 maggio, poi 6 mesi a Brera. Intanto vedete il presidente della Camera di commercio Alberto Drudi che tra l'altro ha detto dovremmo tirare la cinghia perché arriveranno 2 milioni e mezzo in meno per l'ente camerale. Da Fossombrone, esposto dell'opposizione per la residenza protetta. Il leader Mezzanotti chiama in causa Cantone in merito al bando pubblicato dall'amministrazione comunale per l'affidamento in project financing del completamento e della gestione della residenza protetta di Fossombrone. Confermate 20 anni per Varani, agguato con l'acido, il PM chiede di aumentare le condanne per gli altri imputati e la parte civile gioca un asso a sorpresa. La prima udienza dell'appello, una maratona di 12 ore, oggi si riprende con le arringhe dei difensori, poi la sentenza. Lucia Annibali, essere qui significa, ha detto, riaprire una ferita più profonda di quella sofferta in primo grado. E dopo due anni il padre di Luca Varani si è parlato con Luciano Annibali, papà di Lucia. Situazione dura, ha detto per entrambi, una carezza a mio figlio, perché non si senta solo. Ancora dalla pagina del messaggero, la politica PD e Udc, politica regionale, l'alleanza si complica per la corsa alle prossime elezioni, sempre più rompicapo. Il segretario Cesa, smentisce Pettinari, decide la direzione primarie di coalizione, l'Assemblea DEM approva un programma e il regolamento delle candidature. Fiaccolata contro il terrore, domani in piazza del Popolo a Pesaro, manifestazione promossa dalle comunità islamiche della provincia. Apriamo adesso invece il Corriere Adriatico, la pagina di Pesaro. Drudi stringe la cinghia, ma rilancia le iniziative, le peculiarità del territorio promosse all'Expo, in tandem con Spacca. Ancora campagne all'estero. La regione finanzia i lavori sulla Falesia, San Bartolo, altri 150 mila euro per mettere in sicurezza la zona sotto Fiorenzuola dopo l'ultima frana. Minacciato il vecchio torione della cinta muraria, devono essere rafforzate le scogliere. Ancora allarme, appalti ribassi eccessivi per la Cisle e il colpo di grazia per il settore edile, nei servizi penalizzato il personale. Sempre a Fossombrone parte il ricorso all'autorità anticorruzione. La minoranza contesta la procedura negoziata per la privatizzazione della casa di riposo di Fossombrone. Da Fano, il prefetto promette più forze di polizia. Pizzi vuole prevenire anche le iniziative velleitarie di gruppi contrapposti di destra e sinistra radicale. Utile la videosorveglianza. Il sindaco si impegna ad incrementare gli impianti in collaborazione con i privati. Strade pericolose, mancano percorsi protetti per le biciclette, per i ciclisti e pedoni. Gli ultimi drammatici incidenti mettono in discussione il progetto per gli alunni delle elementari. A scuola ci andiamo da soli. Particolarmente a rischio le vie Papiria, del Ponte, Fanella, Flaminia, Mattei e la Statale Adriatica. L'ospedale apre alla musica al via doppia rassegna concertistica. Il chitarrista Salvatori suona il Santa Croce stasera alla Sala Verdi. Avsi al fianco dei bimbi sulle frontiere del mondo. Stefania Famlonga illustra la campagna tende nella chiesa parrocchiale di Lucrezia venerdì alle 21.15. Sempre dal Corriere Adriatico, un anno speso da aiutare chi è in difficoltà. Il CB Club Mattei nel 2014 ha partecipato a ben 11 emergenze, soprattutto per il maltempo, spingendosi fino in Liguria. Innumerevoli le attività di assistenza e prevenzione. L'associazione è formata da 90 volontari. La nautica, la nautica fanese premiata in Europa, Advanced a Dusseldorf, è la miglior barca. Adria Sail ottiene un altro titolo a Genova. Ancora, Ospedale 1, uno stallo da superare. Questa è la notizia che arriva da Pergola. È sotto, ma che a politica. La giunta sta con spacca da Sant'Ippolito. Irritazione dell'ex sindaco Dimitri Tinti per le simpatie degli amministratori verso l'associazione, il gruppo, la lista civica Marche 20-20 di Spacca. Chiudiamo con il resto del Carlino di Pesaro. La pagina di Fano, condannato a 5 anni, il romeno che sequestrò l'anziana fanese e la trascinò fino ad Anzio. Depresso, si getta dal secondo piano, si è fratturato le gambe, un tentato suicidio ieri pomeriggio in via Ranucci a Fano. Un uomo di 46 anni si è gettato dal secondo piano della casa dei genitori, non è morto, ha riportato serie fratture alle gambe. Poi a centropagina picco dei furti nei negozi e più reati digitali. I primi salgono del 58%. Comitato per la sicurezza pubblica in città, i dati del prefetto Luigi Pizzi che dice non abbiamo particolari allarmismi. Chieste comunque al sindaco più telecamere. e negli appuntamenti che il vicequestore Stefano Seretti tiene nei quartieri è emerso che i ladri, questa statistica, che stanno in casa dai 4 ai 6 minuti, parla il dirigente del commissariato il quale dà ovviamente in tutte queste occasioni dove incontra i residenti dei vari quartieri, dà i suoi consigli, utili consigli. L'agrario affano si può, basta volerlo. Sanchioni, consigliere funzionario della CIA, striglia gli indugi della giunta dei tavoli. Tanto è stato effettuato un sopralluogo al Codma, confermato che i locali sono a norma ma al Cecchi stanno molto peggio, dicono. Il destino tormentato della Rincicotti, l'alternativa è rilancio o liquidazione. Il destino incerto per la Rincicotti e Orciani della controllata di Aset Spa che si occupa di fognature pozzinerie e dei suoi quattro dipendenti si è parlato nella riunione di maggioranza di lunedì sera. E ancora Mondolfo si schianta con l'auto e rischia di provocare un'esplosione. Sotto invece le immagini del gran ballo delle debuttanti. Così si è avverato il sogno di Rosalba che è una giovane fanese che ha partecipato alla cerimonia dell'ambasciata d'Austria a Roma. E poi sul comitato Pro Marotta Unita, si dicono vivi e vegeti, Gabriele Vitali, presidente, cita i vantaggi invece della fusione. Poi la lettera della madre dal carcere di Sara Caldaras, la ragazza scomparsa da Pesaro da due mesi. Figlia mia, ti prego torna a casa. La trasmissione della RAI, chi l'ha visto, le ha dedicato alcuni passaggi. Parenti in Francia e in Germania. La sorella Sabrina la sta cercando in tutta Italia. Farà anche un appello a Canale 5 per ritrovarla. E chiudiamo con questa iniziativa che riguarda i papà separati. Nasce Papà non sei più solo, l'associazione per i padri separati. Il presidente Bastianelli dice l'uomo spesso è il soggetto più debole. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra segna stampa. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata. Vi do appuntamento questa sera alle 20.30 nel corso del nostro telegiornale. Occhio alla notizia. Arrivederci. Grazie a tutti.